Al telefono con me, come vi ho già anticipato, c'è Rita Mura, che è consigliera CIGA e Piacenza, la AMDA. Rita, benvenuta. Grazie, buonasera a tutti. Allora, parliamo un po' dei mal di pancia. Adesso a me, cioè, viene da ridere al momento, forse anche un po' dalla rabbia, perché credo che l'Italia abbia perso una gran bella occasione di civiltà, anche se sono dell'idea, e questo mio pensiero te lo voglio esporre prima di chiacchierare, io credo che la civiltà, il rispetto per il prossimo, l'amore che dicevo poco fa, no? Anche per il prossimo non dovrebbe essere regolato da un sistema legislativo, ma dovrebbe nascere da un'educazione e soprattutto da come siamo, no? Certo. E invece no, non è così, anzi. Non è così, non è così. Collegandomi al tuo discorso del rispetto reciproco dell'educazione, io posso dirti una cosa, che questa legge, che era una legge che in effetti avrebbe dovuto essere stata votata da tutti i partiti, in qualsiasi ideologia loro sono, è una legge parlamentare, è una legge per i diritti, per cui è una legge che riguardava le persone, non riguardava un pezzo di carta, riguardava la vita delle persone, l'hanno fatta diventare una legge ideologica. E allacciandomi appunto al fatto del rispetto reciproco, eccetera, eccetera, una cosa che è stata detta molto, molto poco, non è stata detta dai politici, è stata detta però dalle nostre associazioni, che questa legge aveva un impianto che riguardava non solo il penale, ma una serie di misure atte a prevenire questi reati, per cui atte all'inclusione, atte al rispetto reciproco delle persone, ed era una legge che non riguardava solamente la comunità LGBT, ma riguardava le donne, riguardava i disabili, cioè era una legge che riguardava diverse discriminazioni, però per un fatto politico l'hanno fatta, hanno fatto una campagna con tante fake news, perché è stata una campagna, fa parte dei politici di fake news in verosimili, e l'hanno fatta diventare un fatto ideologico, hanno immolato questa legge per i loro scopi politici. È diventata un fatto politico effettivamente, senti Rita... Non doveva esserlo, era una legge parlamentare, per cui arrivava dal Parlamento, non doveva diventare una cosa politica, l'hanno fatta diventare politica per i loro scopi. E tutti sappiamo adesso, non posso parlare di politica, non voglio parlare di politica, perché noi siamo apolitici, siamo apartitici, politici no, perché qualsiasi cosa si faccia nella nostra vita è politica, anche il solo fatto di andare a prendere il pane dal panettiere, però siamo apartitici. Però purtroppo questa legge l'hanno fatta diventare un accaso politico. E che succede adesso, Rita? C'è un blocco di sei mesi, giustamente, questa legge dovrà essere riscritta? Allora, prima di sei mesi non può essere ripresentata niente, questa legge andrà riscritta e bisogna vedere come la riscriveranno, chi la riscriverà, perché io ho sentito anche tante persone dire, però, hanno chiesto, vi sono venuti incontri, hanno chiesto la moderazione, hanno chiesto di poterla ridimensionare, rivedere, il problema era uno, che questa legge qui è stata passata alla Camera dei Diputati con una certa maggioranza. È arrivata, hanno fatto tutti i giochi politici che volete, è arrivata in Parlamento, in Senato e se questa legge veniva toccata anche solo di una virgola, doveva ritornare alla Camera dei Diputati e lì non ci sarebbe più ripresentata, si avrebbero affossata lì. L'hanno affossata così, hanno fatto questa tagliola per affossarla, l'hanno fatta apposta questa cosa qua. Anche perché il voto segreto su una legge in cui si parla di persone, di diritti civili e diritti umani, perché io sottolineo che sono anche diritti umani, cioè una persona che non può andare per strada ed essere tranquillo perché ha paura di essere non solo deriso, ma anche essere preso proprio a pugno, a calci, come succede, succede tutti i giorni perché le cose non vengono dette, ma ci sono tante persone che non vanno a denunciare le percosse o se vengono denunciate, vengono denunciate come percosse normali, cioè non a sfondo omofobico o per dire da noi è successo qualche giorno fa, l'avete letto sulla libertà, di una ragazzina disabile che è stata picchiata in piazza a cavalli. Cioè questa legge l'avrebbe difesa, questa legge difendeva le persone disabili, difendeva le donne. A per assurdo, a per assurdo, se una persona eterosessuale veniva picchiata perché era eterosessuale, questa persona poteva soffrire di questa legge. Una domanda, una provocazione, poi dobbiamo salutarci perché i tempi radio sono sempre molto molto stretti. Quindi è forse meglio che sia andata così piuttosto che se l'avessero rimaneggiata un po' come è successo con le unioni civili, no? Che poi è uscita fuori una roba tutta spezzettata, ha perso dei passaggi e qui sarebbe successo lo stesso. Forse è meglio che sia andata così. Sarebbe stata una legge che non tutelava tutti e che anzi negava il diritto di esistere di alcuni, di alcune persone. Negava addirittura il diritto di esistere perché comunque io non ti tutelo, se io non ti tutelo per me non esisti. È un paradosso però, è così, eh? Certo, certo. Rita, ti ringrazio come sempre per la disponibilità e soprattutto per la chiarezza che hai fatto. Sì, niente, grazie a voi per la vostra chiamata. Volevo dire una cosa, stiamo organizzando per questa domenica, per cui il 31 dicembre alle 16 in pubblico passeggio largo lato rispighi, una manifestazione appunto contro questa scelta. Questo affossamento. E posso dire un'altra cosa, la cosa più vergognosa, oltre a tutto quello che hanno fatto, la cosa vergognosa è stato l'applauso, l'esultanza che hanno avuto i nostri senatori, i nostri, sì, i nostri perché sono di tutto il popolo. I senatori che hanno applaudito un esultato come se fossero allo stadio e avesse vinto la loro partita, la loro squadra, scusi, la loro squadra. È stata un'esultanza quella vergognosa perché lì hanno ancora di più rinnegato i diritti delle persone. Rita, grazie mille. Di niente, grazie a voi, grazie. Era Rita Mura, consigliere a Cighei Piacenza, Lambda, ospite a Radiosound Piacenza 24.